Martedì 14 novembre, giornata mondiale contro il diabete, l'edizione 2017 dedicata alla prevenzione di questa patologia nelle donne. E proprio per questo all'ospedale San Donato di Arezzo, a partire dalle 9, si terrà un convegno dal titolo Donna e diabete. In tutto il mondo ci sono 225 milioni di donne interessate alla patologia, perciò sono tantissime. Pensate, 500 milioni complessivi. A Arezzo e provincia, dal 3,5% di tre anni e mezzo fa, siamo al 7% di persone interessate. Si parlerà soprattutto di stile corretto di vita ed è soprattutto importante capire che la prevenzione aiuta a non avere complicanze. L'associazione Diabetici inoltre sarà disponibile sabato 18 novembre dalle 15 alle 19 al centro commerciale Sette Ponti per la misurazione della glicemia e il calcolo del rischio di diabete mellito. Verranno fatti degli stick per vedere chi può essere interessato a questa patologia e poi soprattutto consideriamo una cosa, che si calcola che il 15% della popolazione è sul on the board per avere il diabete ma non lo sa. Infine per l'occasione saranno illuminati di azzurro, colore del cerchio che simboleggia la giornata, i monumenti dei comuni che hanno aderito alla campagna di prevenzione. Arezzo, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Subbiano, Poppi ed infine Anghiari. Nella notte di lunedì, martedì e mercoledì, perché ricordiamo che il mese interessato al diabete è tutto novembre, verranno illuminati di azzurro un monumento importante del loro paese o della loro città.